Musica Le disposizioni del prefetto rendono off limits l'area del cantiere TAV di Chiomonte. 1700 uomini a difesa della zona. I no TAV confermano la manifestazione di domenica. In giornata sono state rese note le disposizioni del prefetto per la manifestazione no TAV di domenica. Cantiere inavvicinabile sia dalla strada che dai sentieri tra i boschi. Presidio di 1700 uomini mai notate confermano la protesta. I divieti scatano a mezzanotte in Val Susa e varranno fino a lunedì mattina alle 7. Questa è l'ordinanza del prefetto di Torino di Pace che è stata diffusa stamattina. Tocca ora al questore Aldo Faraoni muovere uomini e mezzi su un'area di una dozzina di ettari. Ci saranno più di mille tra polizia, carabinieri, finanzieri, alpini, tenuta antisommossa, mezzi blindati, anche elicotteri. Tutti a difesa del cantiere della nuova linea ad alta velocità Torino-Lione a Chiomonte per impedire l'annunciato arrivo di manifestanti domenica. L'operazione diamogli un taglio. L'attacco alle recinzioni non dovrebbe riuscire. Infatti non si potrà salire verso la Valle Clarea né utilizzando le strade da Giaglione, San Rocco, San Giovanni, né Chiomonte, Lavanà, Via Roma. Vietato anche l'accesso dai sentieri verso la centrale idroelettrica o il museo archeologico di Chiomonte. Impossibile pensare alla caccia, vietata nei comuni della zona, Venaus, Exil, oltre a Giaglione e Chiomonte. Già da 24 ore sulle strade della Val Susa sono posti di blocco e controllo. Il timore è quello dell'arrivo di attivisti e professionisti della violenza a prevenire il bis di Roma di sabato scorso. Il sottosegretario all'interno di Davi annuncia che sarà in prefettura Torino a seguire la situazione. I sindaci no TAV si ritroveranno invece in una unità di crisi a Bussole. Ezio Paeni, il sindaco di Giaglione. La manifestazione contro la TAV domenica dovrebbe partire di qui. Sì, esatto. Di qui dovrebbe iniziare il corteo che va verso dove c'è la recensione. Lei è preoccupato? Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato intanto per la circolazione e per quello che può succedere. Ore 11 con Ezio Paeni, sindaco di Giaglione, percorriamo l'antica strada romana che porta a Chiomonte che in no TAV domenica mattina vorrebbero usare per avvicinarsi alle reti che delimitano l'area del cantiene per darci un taglio. Molti lo pensano, ma ancora ufficialmente non si sa che la strada è nella zona vietata ai manifestanti dalla prefettura di Torino. Paeni, come gli altri sindaci no TAV, comunque alla manifestazione non ci sarà. I manifesti che abbiamo visto sono illegali, dove si dice che ci sarà taglio delle recensioni e cose di questo genere, quindi noi ci dissociamo da questo. Lei continua a essere convinto del suo no? Io sono convinto del mio no, sono convinto dell'inutilità della realizzazione di quest'opera. Oltre il torrente Clarea, che delimita il confine tra Giaglione e Chiomonte, al presidio permanente dei no TAV è l'ora del picnic. Sarà una manifestazione, tra virgolette, pacifica? Per noi, sì. Noi consideriamo questo tipo di cantiere di recensioni ampiamente illegale. Andiamo a togliere un testo di illegalità, tagliando la recensione che per noi è illegale. Disobbedienza civile, ma nessuna violenza, hanno ribadito i tanti presenti all'assemblea di ieri sera a Villardora. Ci si difende da eventuali lanci di lacrimogeni, chi può, chi ce l'ha, persino con la famigerata maschera antigas, ma dopo essersi voltati con le spalle alla recensione e aver cominciato a venire via. E se ci sarà una zona rossa, voi non potrete neanche avvicinarvi a quest'area? Che cosa accadrà? Se non sarà possibile venire qui, è evidente che questo tipo di azione non potrà essere fatta. Siccome saremo in tanti, siamo convinti di essere in tanti domenica, ci faremo venire qualche idea creativa.